Allora, la lezione di ieri abbiamo visto la definizione del spazio vettoriale, prima di avere un spazio vettoriale, abbiamo cominciato a vedere che cos'è una combinazione di linee. Quindi, lo ripetiamo, se io ho un spazio vettoriale un punto, il campo K, noi perché diciamo campo K? Perché fino a che non c'è bisogno di specificare qual è il campo, diciamo così, se ci sarà bisogno di specificare quindi il campo E, C o un campo finito, quello che sto dicendo adesso vale per qualunque spazio vettoriale. Allora, abbiamo detto v1, vh sono dei vettori, la combinazione lineare è una somma finita del tipo, somma per i, cioè per j, che va da 1 fino ad h, di lambda j, un'espressione di questo, dove lambda j è un elemento del campo, cioè un numero, uno scalare, e vj è questo, però vg, ok, e a, cos'è uno? si chiama combinazione lineare. Ok? Subito dopo abbiamo visto la nozione di lineare indipendenza. lineare indipendenza. Ecco. Allora, lineare indipendenza. vediamo tutte e due le definizioni, anche se una è una negazione dell'altra. v1, vh, in definizione, si dicono linearmente dipendenti, abbiamo visto lì che stiamo ripetendo, se solo se è la definizione, esistono i coefficienti lambda 1, lambda a, appartenenti a campo. non tutti nulli, e tali che somma per j che va da 1, va da lambda j, un j sia uguale al vettore 1. quindi i vettori si dicono realmente dipendenti quando esiste una loro combinazione lineare nulla, fatta con coefficienti lambda 2. osservazione, questa non l'abbiamo fatta ieri. quindi, supponiamo, supponiamo, v1, vh, linearmente dipendenti, poi, supponiamo, che somma per j che vada 1 da lambda j, vg, sia uguale al vettore nullo, e lambda i sia diverso da 0. perché la possiamo supponere? perché siccome è una combinazione lineare, esiste una combinazione lineare nulla con coefficienti, non tutti nulli, allora noi sappiamo che sicuramente uno di questi coefficienti è diverso da 0. per esempio lambda i. E' chiaro? Allora che succede? Allora, v con i lo posso scrivere come meno 1 fratto lambda i per la somma, per j che va da 1 fino ad h, però j diverso da i, cioè quando faccio la somma salto gli indice i di lambda j. Cosa ho fatto? Non ho fatto altro che portare dall'altra parte e dividere per lambda i. Facciamo un esempio. esempio, prendiamo in R3, prendiamo v1 è uguale a 0, 1, 2, v2 è uguale a 1, 1, 0, V3 è uguale a, vediamo un po', facciamo meno 1, 1, 4, ok? Allora, potete osservare che v3 più v2 meno 2 v1, v3 più v2 meno 2 v1, allora meno 1 più 1 più 2 volte 0 fa 0. Allora, lo scrivo un po' su, meno 2 v1, che è 0 meno 2 meno 4. Adesso fate la somma di questi tre. V3 più v2 meno 2 v1, 0 più 4 meno 4 fa 0. 1 più 1 meno 2 fa 0, 1 meno 1 fa 0. Quindi questo qua è il vettore del nero. Cosa abbiamo dimostrato? Che questi tre vettori come sono? Sono dipendenti. Sono dipendenti. Perché abbiamo una combinazione lineale nulla e i coefficienti non sono tutti nulli. In questo caso particolare, nessuno dei tre coefficienti è pari a 0. Poteva succedere, per esempio, se v3 era il doppio di v2, allora avremmo avuto v3 meno 2 v2 uguale a 0, ma il coefficiente di v1 era 0. Quindi, comunque, sono dipendenti. Ci siamo fino a qui? Professore, mi scusi. Lì, v1 uguale a meno 1 fratto lambda i o lambda j? Lambda i. Ok, grazie. Da i? Questo è j. Perché? Allora, che cosa succede? Supponiamo, in questa uguaglianza qui, puoi isolare uno dei vettori, per esempio, chi è v3? V3 non è uguale a 2 v1 meno v2. Porto dall'altra parte, si cambia segno. Cioè, portare dall'altra parte che significa? Che significa sommare l'opposto a sinistra e a destra, l'opposto di meno 2 v1 e l'opposto di v2. Ok? Se volessi isolare v2, chi è v2? È 2 v1 meno v3. Se volessi ricavare v1, chi è? v1 è uguale a v2 più v3 diviso 2. è la media, no? 1 meno 1 fa 0, 1 più 1 fa 2 diviso 2 fa 1, 0 più 4 fa 4 diviso 2 fa 2. Allora, vedete? Che io posso, da questa uguaglianza, posso ricavarmi v3 in funzione di v1 e v2, v2 in funzione di v1 e v3, v1 in funzione di v2 e v3. Però quando lo posso fare questo? Quando il coefficiente di v con i è diverso da 0. Per esempio, mettiamo che c'era v4 anche qua. Lo posso ricavare v4 da qua? No, non ci compare. Se non ci compare, come faccio a ricavarlo? Quindi, che cosa sto dicendo qua? Che posso ricavare v con i, perché siccome lambda i è diverso da 0, ci compare. Allora cosa faccio? Isolo v con i, lo metto da una parte, lambda i v con i, poi divido per lambda i, e quello che ricavo è questo. Perché? Dall'altra parte mi rimane somma di lambda g v con g, poi uno dei due lo devo ripostare dall'altra parte, quindi un segno lo devo cambiare, e poi devo dividere per lambda i. e poi quando faccio la somma, ovviamente devo saltare i perché lambda i v con i l'ho portato dall'altra parte. È chiaro? Ok. Quindi, quando noi abbiamo che una combinazione dei vettori sono realmente dipendenti, siccome la nuova combinazione lineare è nulla e i coefficienti sono tutti nulli, almeno uno dei vettori lo posso esprimere come combinazione lineare degli a. Vedete? Qua non è solo v3, non è solo funzione di v1 e v2, ma è combinazione lineare di v1 e v2. cioè 2v1 meno v2, v2 è 2v1 meno v3, v1 è mezzo v2 più mezzo v3. È chiaro fino a qui? Allora questo è il fatto che precisa quello che dicevamo ieri quando dicevamo che in qualche modo dire che i vettori sono realmente indipendenti vuol dire che ce n'è uno inutile. Cioè nel senso che inutile in quale discorso? Cioè quando andiamo a fare le combinazioni lineari è inutile v3 se già abbiamo v1 e v2. Perché? Perché è inutile aggiungere v3 per fare le combinazioni lineari anche di v3 perché già v3 lo posso realizzare come una combinazione lineare di v1 e v2. Quindi io faccio le combinazioni lineari di v1 e v2 e faccio le combinazioni lineari di v1, v2 e v3 è la stessa cosa. Chiaro? Oh, qua chi è che è inutile? L'inunità è sempre relativa, cioè nel senso se ho v1 e v2, v3 non mi serve. Se ho v2 e v3, v1 non mi serve. Se ho v1 e v3 è v2 che non mi serve. Cioè in questo caso posso quando vado a realizzare le combinazioni lineari fare a meno di uno qualunque dei tre. Però se voglio fare le combinazioni lineari di v1, v2, v3 e v4 non lo so dovrei fare i conti però magari di v4 non ci posso rinunciare. perché? Perché in questa relazione non può fare. Se non ci sono altre relazioni. Chiaro? Se v4 non starà nello spenda, poi diremo poi di quei primi tre, a quello non ci posso rinunciare. Perché non lo posso generare con v1, v2, v3. Chiaro? E come si fa a capire? Si capisce benissimo. Quando c'è una relazione di dipendenza lineare quello che può isolare e descrivere con una combinazione lineare e gli altri è quello che ci vuoi rinunciare se c'hai altri. Sempre relativi. Cioè prima devi avere gli altri e poi a quello vuoi rinunciare. quindi qui in questa relazione di dipendenza lineare quando vado a fare combinazioni lineare se ho v1 e v2, v3 non mi serve, se ho v1 e v3, v2 non mi serve, se ho v2, v3, v1 non mi serve. Poi lineare indipendenza con la perla. Non mi serve, se ho v2, v3, 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 v4, v3, 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 v4, v3, v3. allora V1, VH appartenenti allo spazio vettoriale V si dicono linearmente indipendenti se solo se per definizione ci metto una valentesi perché quello che sto per scrivere tutto quanto equivale alla linea indipendente somma di lambda J, VJ per J che va da 1 ad A uguale al vettore nullo se solo se lambda 1 uguale a lambda 2 uguale a lambda A uguale a quindi quando è che sono linearmente indipendenti? quando ogni qualvolta vado a fare la combinazione lineare mi viene nulla il vettore è nullo allora i coefficienti sono sottinuti ovviamente ovviamente qui dentro la freccia che va da sinistra che va da destra verso sinistra è ovvia se io ci metto i coefficienti nulli per forza viene il vettore nullo 0 per qualunque vettore fa il vettore nullo una somma di vettori nulli fa il vettore nullo qua potrei scrivere anche così sarebbe il più chiaro meno completo ma più chiaro perché l'altra implicazione è banale questa è quella non banale ok allora quindi se io già so che i vettori sono indipendenti perché l'ho detto io l'abbiamo dimostrato prima ogni volta che tu fai una combinazione lineare quindi il vettore nullo i coefficienti devono essere 0 non può uscire il vettore nullo se i coefficienti della combinazione lineare non sono tutti 0 è chiaro? ok bene vediamo un'altra conseguenza di questo ora questa qua non sono due definizioni sono due definizioni equivalenti cioè questa è la negazione di quella ve le do tutte e due perché all'esame le chiedo io siccome non sapete fare le negazioni negare questo no? cioè non esistono lambda 1, lambda h non tutti nulli con la combinazione lineare nulla che significa che ogni volta la combinazione lineare il vettore è nullo e i coefficienti devono essere tutti nulli se ci pensate un attimo è questo però ad alcuni è chiaro altri meno quindi perciò ovviamente tutte le due ok osservazione osservazione siano 1 prima di fare l'osservazione nella situazione di cui sopra si dice anche si dice anche si dice anche si dice anche che v1 quh è si chiama parte libera allora qual'è la differenza? v1 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 v2 v1 v2 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 fate attenzione alla differenza v1vh come vettori sono elementi indipendenti, v1vh come insieme è una parte tutta ok? è un modo diverso di guardare la stessa cosa, però siccome perché quello è plurale e quello è sicolare, perché quelli sono vettori e quelli sono insieme v1vh come vettori sono realmente indipendenti, v1vh come insieme si chiama parte tutta si è vettori sono elementi è chiaro? si adesso, osservazione la facciamo di qua osservazione siano v1vh linealmente, diciamo, partenenti a v e linealmente indipendenti e sia v uguale a somma per j che va da 1 ad h di lambda j di j e v uguale a somma per j che va da 1 ad h di mu con j cioè cosa stiamo ipotizzando? noi abbiamo dei vettori linealmente indipendenti, poi vediamo cosa si fa a trovare e sappiamo, sappiamo che un certo vettore v che è lo stesso, v e v vedete, si possa scrivere come combinazione linea di v con j due volte, una volta con certi coefficienti lambda j e un'altra volta con altri coefficienti mu con j cosa possiamo concludere? allora, scrivo qua lambda j è uguale a v con j, però j compreso c'è un'altra che significa che le due scritture in realtà sono uguale cioè un vettore v se è combinazione lineare di certi vettori che erano tra di loro linealmente indipendenti quindi non si può scrivere in due modi diversi come combinazione linea di due vettori la scrittura è unica perché è unica? eh, l'abbiamo prato a scrivere due e in realtà i coefficienti erano uguali, quindi due è la stessa questo cosa ci dice? che se io voglio scrivere il buco come combinazione linea di questi, devo usare questi coefficienti qua, non ne voglio usare altri cioè non è che ci sta, quei coefficienti saranno le coordinate, no? cioè le coordinate rispetto ai vettori v1, v2, vh una volta che sono state stabiliti se i vettori v1, v2, vh sono realmente indipendenti sono le stesse, sono fissi non è che cambia chiaro? con i vettori dipendenti no con i vettori dipendenti no perché, allora, nel momento in cui ho v3 che è uguale a 2v1 meno v2 eh allora il vettore 2v1 meno v2 eh se volessimo usare come coordinate i coefficienti rispetto a v1, v2, v3 le coordinate sarebbero 2, meno 1, 0 ma siccome quella è uguale a v3 le coordinate potrebbero anche essere 0, 0, 1 quindi non ce l'hai le coordinate, non hai unicità dei coefficienti invece è quasi perché un vettore che sia combinazione lineare di v1, v2, vh se uso i coefficienti lambda j e poi trovo altri coefficienti mu con j i mu con j sono uguali a lambda j noi faremo degli esempi però prima lo dobbiamo dimostrare come si fa la dimostrazione? la dimostrazione è banale si fa la differenza q meno v2 quanto viene? il vettore? il vettore? il vettore? il vettore è nullo il vettore è nullo questo dall'altra parte fa somma per j che va da 1 ad h di che cosa? di lambda j meno v con j v con j fare la somma la differenza termine a termine lambda j v j meno v con j v con j si può mettere in evidenza v con j che viene lambda j meno v con j questo che cosa mi dice? siccome questi sono indipendenti e siccome questo è nullo questi coefficienti devono essere tutti nulli quindi questo mi dice che lambda j meno v con j è uguale a 0 per ogni j compresa 1 ed h ma dire che lambda j meno v con j fa 0 vuol dire che lambda j è uguale a nulla è chiaro? allora facciamo un esempio facciamo un esempio facciamo un esempio prendiamo R2 prendiamo le due 2,1 e meno 1,3 allora vediamo che siano linearmente indipendenti cioè andiamo a fare lambda 2,1 più mu u meno 1,3 uguale 0,0 questo qua come dovreste avere già osservato ieri è un sistema di due equazioni e due incognite perché? a sinistra cosa mi viene? 2 lambda meno mu e qua mi viene lambda più 3 mu cioè cosa devo fare? qua mi viene 2 lambda lambda qua mi viene meno mu 3 mu proprietà distributiva e poi faccio la somma 2 lambda meno mu 2 lambda meno mu componenti per componenti lambda più 3 mu e questo deve essere uguale a 0,0 siccome l'uguaglianza c'è su tutte e due le componenti che cosa ottengo? ottengo il sistema 2 lambda meno mu uguale a 0 lambda più 3 mu uguale a 0 quindi qua c'è scritto che mu è uguale a 2 lambda sopra sostituisco sotto mi viene 2 lambda per 3 fa 6 lambda più lambda fa 7 lambda uguale a 0 dividete per 7 e trovate lambda uguale a 0 mu uguale a 0 è chiaro? quindi lambda uguale a 0 sostituisco sotto e viene mu uguale a 0 che cosa ho dimostrato? ho dimostrato che se io voglio fare una combinazione lineare di questi due vettori e voglio che sia il vettore nullo i coefficienti devono essere 0 e 0 e quindi i vettori sono linearmente diventati erano due e i coefficienti sono nulli ci troviamo? ok adesso prendiamo un terzo vettore per esempio 5,9 proviamo a scriverlo come combinazione lineare come prima cioè lambda volte 2,1 più v volte meno 1,3 quindi il sistema viene lo stesso di prima semplicemente che non viene uguale a 0,0 ma deve essere uguale a 5,9 cioè viene 2 lambda meno mu uguale a 5 lambda più 3 mu uguale a 9 adesso dobbiamo risolvere questo sistema vediamo un po' cosa possiamo fare per esempio possiamo moltiplicare questa equazione per 2 e sottrarre questa se faccio questa cosa 2 lambda meno 2 lambda fa 0 6 mu meno meno mu fa 7 mu qua mi viene 9 per 2 è 18 meno 5 che fa 13 e poi mi devo conservare un'equazione di prima 2 lambda meno mu uguale a 5 quindi se ho fatto bene i conti adesso controlliamo mu uguale a 13 settimi 2 lambda è uguale a 5 più mu quindi 5 più 13 settimi dovrebbe fare 48 settimi quindi lambda uguale 24 settimi proviamo adesso proviamo a fare 24 settimi 2 1 più 13 settimi anzi divido per 7 e divido all'ultimo stanno sopravvando meno 1 è uguale allora qua mi viene 48 meno 13 che fa 35 24 più 39 fa 63 divido per 7 35 diviso 7 fa 5 63 diviso 7 fa 68 chiaro? oh non è un mondo difficile quindi se avete problemi con i conti esercitati non so fare i conti esercizi se ti sessi ti sapete se non ti sessi ti sapete chiaro? se volete passaggio questo è un settimo che moltiplica 48 24 più meno 30 39 uguale un settimo che moltiplica? 35 63 ridendo per 7 viene 50 ok ora questo vettore si può scrivere come combinazione lineale di 2 di prima? sì in quanti modi si può scrivere come combinazione lineale di 2,1 e di meno 1,3? abbiamo fatto il conto l'ambo è fissato e il muo è fissato non ci possono essere più soluzioni di quel sistema perché i vettori sono linealmente indipendenti se c'è una soluzione potrebbe non esserci in teoria in questo caso ci deve stare per poco se stavamo in realtà potevano non esserci però se c'è è fissato chiaro? ok perché c'è una soluzione se adesso cambiassi qua invece di metterci 5 e 9 ci mettessi che ne so dei valori a e b no? rifacciamo lo stesso questo esercizio l'abbiamo fatto ieri invece di mettere dei valori fissi qua ce l'ho messo un vettore generico di r2 a e b ok? allora come si risolve il sistema? lo stesso modo di prima facciamo il doppio di questa meno questa se vi ricordate veniva 7 mu e questo era 2b meno a quindi mu è uguale a 2b meno a fratto 7 poi lo so che 2 lambda è uguale ad a più mu quindi più 2b meno a fratto 7 quindi viene 2b più 6a fratto 7 quindi lambda viene b più 3a fratto 7 e mu è sempre lo stesso di prima cioè 2b meno a fratto 7 allora per esempio vediamo se funziona questa cosa possiamo controllare con la soluzione di prima per esempio se b era 9 ed a era 5 qua quanto veniva? 18 meno 5 fratto 7 veniva 13 7 infatti veniva 13 7 sempre b è 9 e a uguale a 5 9 più 15 fa 24 7 e 2 qual è migliore come esercizio? quello di prima o quello di adesso? ecco quello di mo perché questo qua non risolve il sistema solo nel caso particolare 5 e 9 ma lo risolve per tutti gli altri e per tutti i b a questo punto se lo voglio risolvere per 5 e 9 una volta trovato la soluzione ci metto a uguale a 5 più uguale a 9 ok allora che cosa ci dice questo sistema che non ci diceva il fatto che v1 e v2 fossero linealmente indipendenti una cosa ce la dice questo sistema viene sempre risolubile ovviamente la soluzione una volta che c'è è unica ma può succedere che un sistema non venga risolubile è certo che può succedere per esempio se voi avete un sistema mu uguale a 1 mu uguale a 2 non è risolubile potrebbe succedere invece non è successo anche se le incognite sono solo 2 anche se le equazioni sono solo 2 in questo caso il sistema per ogni a per ogni b si può risolvere sempre ok che vuol dire vuol dire che io con le combinazioni di quei due vettori di r2 ci posso fare qualunque altro vettore di r2 posso far uscire anche 5 e 9 posso far uscire anche meno 1 e 7 posso far uscire anche a b o questo era scritto nel fatto che i vettori v1 e v2 fossero finalmente indipendenti ni nel senso non perché fossero indipendenti ma perché erano due vettori indipendenti in r2 vedremo perché due vettori vi ricordate abbiamo visto anche geometricamente se ho due vettori e faccio le combinazioni lineari che mi usciva dipende c'è un unico caso in cui mi esce il vettore nullo quando? quando tutti e due vettori sono nulli poi c'era un caso in cui mi veniva una retta passante per l'origine quando? quando i due vettori erano allineati cioè geometrimente allineati algeplicamente uno multiplo dell'altro ma tranne questi casi se i due vettori non erano allineati quindi non erano uno multiplo dell'altro e non erano nulli entrambi non nulli quando vado a fare combinazioni lineari come in questo caso qua esce fuori tutto r2 però però facciamo una figura un po' più complicata facciamo questo e poi facciamo una piccola parte questa è la 6 questa è la 6 e questa è la 6 adesso io prendo due vettori v1 e v2 stavolta stiamo in r? che significa fare le combinazioni lineari? significa per esempio sommare v1 e v2 o fare il multiplo di v1 il multiplo di v2 e sommarli stavolta ho preso dei multipli con dei coefficienti tra 0 e 1 però cosa succede secondo voi quando faccio tutte le combinazioni lineari di due vettori anche se non sono lineari potrò ottenere un vettore qualunque non sembra facciamo un esempio supponiamo che i due vettori stiano sul piano orizzontale noi prendiamo il vettore 1, 0, 0 e 0, 1, 0 che succede quando vado a fare la combinazione linea di questi vettori? che succede? che non è siccome i due vettori stanno sul piano orizzontale la regola la somma si fa con la regola del parallelogramma il parallelogramma sarà sul piano orizzontale il vettore somma non uscirà mai dal piano orizzontale la stessa cosa accade se i vettori sono messi anche inclinati saranno compresi in un piano perché i due vettori partono tutti e due dall'origine quindi quale piano? quello che passa per l'origine e per la punta di ciascuno dei due vettori 3x3 punti non allineati passano in un solo piano quindi che succede? che non uscirò quando andrò a fare la combinazione lineare avrò assumerò dei vettori che stanno sempre sullo stesso piano su quel piano lì e la somma non uscirà mai da quel piano e se non esce mai da quel piano non potrà generare un vettore che non stia su quel piano facciamo un esempio se io prendo i vettori 1 1 1 e il vettore meno 1 2 3 meno 1 2 1 ok? adesso di usare di usare questo piccolo sistema A più D più C uguale a 0 meno A C più D più C uguale a 0 facendo la differenza viene 2 meno A C quindi prendiamo 1 2 e meno 3 allora questi sono v e v2 ok? proviamo a vedere che cosa succede se io provo a scrivere lambda v1 più v2 uguale a un'altra cosa il vettore di Rn d'ora in poi questo scriviamo trasposto trasposto d'ora in poi li sistemiamo in modo verticale 1 1 1 meno 1 trasposto significa che il superlitto poi vedremo meglio quando faremo le matrici d'ora in poi li mettiamo in verticale non mi piace mettere in verticale allora supponiamo che io voglia scrivere lambda v1 più mu v2 uguale 1 2 meno 3 questo che significa? significa lambda 1 1 1 1 più mu meno 1 2 1 uguale 1 2 meno 3 questo che significa un sistema allora qual'è il problema? stavolta questo sistema quant'equazione ha? quant'equazione ha? 3 le componenze sono 3 cioè avete 2 avete lambda meno mu uguale 1 lambda meno mu uguale 2 poi lambda più 2 mu uguale 2 e poi e poi lambda più mu uguale meno 3 e c'è qualche problemino? c'è perché stavolta le equazioni sono 3 ma le incognite sono solo 2 oddio anche se le equazioni erano 2 e le incognite erano 2 il sistema potrebbe venire impossibile però qua è più facile perché? allora supponiamo risolvere il sistema sommiamo questi due cosa viene? viene 2 lambda uguale meno 2 quindi viene lambda uguale meno 1 adesso se lambda è uguale a meno 1 lo sostituisco qua dentro allora queste due che mi sono servite per fare la somma per trovare lambda uguale a meno 2 non sono utili tutti e due perché? mettete lambda uguale a meno 1 qua dentro cioè avete meno 1 più mu uguale a meno 3 se lo mettete là sopra avete meno 1 meno mu uguale a 1 se vi fate conti qua tutte e due le equazioni viene mu uguale a meno 2 no? questo non è un problema quindi io ho trovato ho fatto la somma ho trovato che lambda è uguale a meno 1 e ho sostituito in queste due equazioni qua ho sottato queste due equazioni qua e ho trovato che mu è uguale a meno 2 non è importante quale vi portate appresso prendete una delle due che vi è servita per il problema è che c'è ancora un'altra equazione la scrivo così perché sarà l'equazione che andrà male cioè che succede? se lambda è uguale a meno 1 qua mi viene meno 1 meno 4 uguale a 2 che non è vero cioè che cosa succede? che queste due equazioni mi bastano per determinare lambda e mu la terza equazione diventa un fatto di fortuna può darsi che lambda e mu risolvano anche la terza ma io ho messo le cose in maniera tale che il terzo vettore sicuramente era ortogonale prima di 2 vedremo e quindi sicuramente non può essere ottenuto io cosa ho fatto? ho fatto un piccolo colpo che poi vi avrete a fare ho preso il terzo vettore e l'ho preso ne ortogonale a questo piano ok? allora se è ortogonale a piano dentro a piano non ci sta e allora se nel piano non ci sta non può uscire come combinazione lineare dei primi cioè allora quando questo sistema è incompatibile cioè non ha soluzione cioè non è detto che ogni volta che io vado a fare le combinazioni lineari di v1 e v2 devo ottenere qualunque vettore e questo perché dovete capire con un vettore io che cosa ci generavo? Naretto con due vettori se erano indipendenti se erano dipendenti ancora Naretto ancora il vettore nullo quindi l'indipendenza ci serve per generare quanto massimo è possibile però con un vettore ci posso generare Naretto con due vettori un piano ma se sto nello spazio il piano non mi esaurisce lo spazio e perché? vedremo perché lo spazio ne vogliono tre però mettiamo per un attimo di aver intuito questa cosa poi specificeremo bene ma se sto in R adesso fino a tre le cose si vedono ma se sto in R4 secondo voi se ho tre vettori posso ottenere tutti gli altri vettori di R4 guardate è una cosa molto semplice più semplice di quello che pensate tra i vettori di R4 ci sono questo ci sono questo ci sono questo ma c'è anche questo allora guardate questi tre vettori sono indipendenti è un esercizio banale i primi tre vettori come se fossero i vettori di R3 della base canonica di R3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 però in R4 ci stanno una componente in più quindi ce ne stavano in più allora quando perché questi sono indipendenti perché quando andate a fare una combinazione lineare lambda questo più mu questo più nu questo mi verrà lambda mu nu sulle prime tre posizioni allora se volete che facciano 0 0 0 deve essere lambda uguale a 0 mu uguale a 0 mu uguale a 0 quindi sono indipendenti ma proprio perché una combinazione lineare di questi se io scrivo lambda questo più mu questo più nu questo altro coefficiente cosa mi verrà mi verrà lambda mu 1 0 quando fate le combinazioni lineare di Bm3 che vuol dire che sono indipendenti perché se devo uscire 0 0 0 0 lambda deve fare 0 mu deve fare 0 nu deve fare 0 e 0 già poi c'è da 0 ma al tempo stesso vuol dire anche che io 0 0 0 1 non l'otterò mai perché qua c'è sempre 0 e uscirà sempre 0 allora intanto abbiamo visto che questi tre non vanno bene per generare tutte le quattro ma se ne prendo altri tre indipendenti posso sperare di avere una combinazione diciamo tre vettori indipendenti in maniera tale che le loro combinazioni facciano tutte le quattro secondo voi? no perché un vettore faceva la retta al massimo due vettori facevano il piano tre vettori fanno uno spazio tridimensionale al massimo se sono indipendenti ma R4 ha una componente in più dimensione c'è una 4 e non lo farò mai è chiaro? inquietivamente per adesso è chiaro quello che può essere diarmi a motticiccio pausa è chiaro? è chiaro è chiaro è chiaro e è chiaro è chiaro è chiaro Grazie a tutti